Salve a tutti, è tornato il vostro Mr. Volume e da un po' che non faccio video e quindi ho deciso di tornare col botto in piena pompa magna presentandovi questa pellicola del 1994, una pellicola si può dire leggendaria perché in molti sono tuttora convinti che questo film non esista neanche in tanti altri che hanno avuto la fortuna di vederlo durante qualche passaggio in tv tanto tempo fa lo citano come uno dei film più trash della storia e direi che anche io posso accodarmi a questo pensiero, però sono strafelice perché finalmente ho avuto l'opportunità di vederlo perché finalmente è uscito in dvd Chicken Park, la parodia, se così si vuol dire, di Jurassic Park girata da Jerry Cala con lui come protagonista, la bellissima attrice Demetra Hampton che i più ricorderanno come la Valentina della serie tv tratta dal fumetto di Crepax ovviamente e anche una giovanissima Alessia Marcuzzi che dire, questo film oltre ad essere parodia di Jurassic Park è una parodia di un sacco di film che andavano di moda che andava di moda a citare diciamo negli anni 90 però per quanto mi riguarda questo film è certo divertente anche se è davvero forse il film più brutto che io abbia mai visto perché ha dei picchi di nonsense assoluto, delle battute scontatissime in tanti momenti scorrettissime politicamente parlando razziste, omofobe e chi più ne ha più ne metta ovviamente il tutto è preso sul ridere quindi si spera che nessuno si offenda anche perché comunque le minoranze vengono toccate ma diciamo velatamente anzi poi ai tempi era anche moda fare battute del genere che dire, forse è il film più brutto che io abbia mai visto e proprio per questo devo straconsigliarvelo perché a parer mio un film così brutto deve essere visto almeno una volta nella vita da chiunque in breve la trama parla di Jerry Cala che adesso non sto neanche a svelarvelo perché dovete andarvelo a cercare voi ma facciamo che il parco divertimenti in questo caso non ha dei dinosauri ricreati ma bensì dei polli giganteschi ma comunque prima, dopo e anche durante l'arrivo del protagonista nel parco divertimenti in questione succederanno delle situazioni che davvero non c'entrano nulla con la trama fanno battute scadentissime vogliono forse imitare un po' quella che era la genialità di Fantozzi ma non arrivandoci neanche quando si impegnano al massimo ecco e niente, che dire fatevi questa bella oretta e mezza di monnezza concedetevi di staccare il cervello e divertitevi esattamente come ho fatto io guardando questa trashatissima chiamata Chicken Park regia di Jerry Cala 1994 fatemi sapere se anche voi pensavate che questo film fosse una semplice leggenda metropolitana fatemi sapere se invece l'avevate già visto e nel caso cosa ne pensate vi leggo nei commenti e Mr. Volume vi saluta ci vediamo al prossimo video ciao belli